eccoci benvenuti a una nuova puntata di dr penis oggi con noi michele michele ha effettuato ha effettuato quattro mesi e mezzo fa un impianto di protesi al pene è arrivato con una storia diciamo molto travagliata di disfunzione erettile su base vascolare è arrivato fino a 50 anni senza mai aver avuto rapporti sessuali abbiamo preso insieme questa decisione aveva effettuato un intervento di corporoplastica di rapprezzamento qualche anno fa a milano con un altro centro con un altro urologo però il problema della disfunzione erettile era un problema serio importante l'abbiamo affrontato con l'impianto della protesi michele a quattro mesi e mezzo che dici come stai iper felice iper soddisfatto iper contento iper sessuale iper iper mi viene da dire cioè non ho altro da dire il mio santo subito sta qua io sarei manco proprio così credente ma credo e voglio dire davvero non ho parole per ringraziarlo mi ha donato la vita non immaginavo cosa potesse essere 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 uomini a tutti i livelli lo immaginavo lo sognavo ma ormai non lo speravo più quando sono venuto a conoscenza e neanche per puro caso del professor gabrielle antonini però ho visto una luce anche perché il professore riesce a infondere subito fiducia con la sua empatia con la sua fortissima empatia fortissima simpatia personalità e ti fa comprendere subito praticamente anche facendoti vedere cosa ti impianterà ti spiega subito ti dice stai calmo perché perché adesso io te la risolvo questa cosa è stato di parola parola piena io da quattro mesi e mezzo quattro mesi e mezzo no perché c'è stato un mesetto dopo il primo mesetto insomma bisognava attendere diciamo il consolidarsi dell'intervento ma da tre mesi e mezzo io mi sento uomo e lo urlo al mondo uomo uomo davvero al mondo e sto avendo tantissime esperienze sessuali complete è incredibile come questi tre mesi e mezzo di vita i più recenti tre mesi e mezzo della mia vita siano pieni felici come mai lo sono stati quelli precedenti perché anche con tutte delle soddisfazioni che nella vita avuto quando non si è pienamente uomini si è una grande voglia di esserlo e ci si sente dentro di esserlo e non si può esprimere fisicamente di esserlo è un disastro per totale io adesso sono fuori da questo disastro da un mese la sensibilità il piacere il godimento l'orgasmo la qualità del rapporto sessuale com'è con la propria la qualità del rapporto sessuale è nettamente superiore a quella tra virgolette fisiologica diciamo tu come fai a sapere se quello fisiologico non lo so perché a parte che le partner te lo fanno notare partner che poi se non si accorgono dell'impianto se non glielo dici non si accorgono tranne qualche escort iper esperti che dice ma io ci sono capitato con qualcuno come te che mi ha detto una cosa ma se no non si vede non si vede nulla c'è la meraviglia perché dopo l'eaculazione se tu non lo butti giù quella rimane su e quella ci lavora ci lavora ci gode ci gode ci gode ci gode ci gode ci gode la sensibilità è identica a quella pre intervento anzi secondo me è possibile fare di più è aumentata se non la sensibilità la capacità di vivere delle sensazioni soprattutto ad esempio nel rapporto orale quando la protratta elezione lezione possiamo coordinare consente alla donna di raggiungere determinati punti sotto al grano insomma non lo stiamo a fare un po non è il caso poi forse non assorbirebbe troppo tempo sono una famosa però riesci quindi ad avere sensazioni per cui per un pene che subito scende non può avere manca il tempo manca la possibilità di stimolare in modo protratto quei punti non so cioè insomma voi che ci state ascoltando sicuramente siete più esperti di me io sono arrivato a ciò che poi diventerà il più esperto di voi nei prossimi 50 anni insomma lo rifaresti sempre però come ho detto sempre ma spero di non averne più bisogno di durare fino a 120 anni perché 70 anni me di stramerito grazie al professor gabriele antonini 70 anni di rapporti sessuali rapporti amorosi per trovare la loro vita e sennò pazienza se non la do basta che si scopa per i prossimi 70 anni perché me lo merito grazie al professore va bene ci vediamo alla prossima puntata di dr penis Al prossima puntata di dr